Life, la mia storia nella storia, è il titolo della biografia di Papa Francesco, scritta a quattro mani con il giornalista Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo. Nel libro il pontefice parla, tra le altre cose, del conclave che lo ha eletto, degli effetti dei suoi ricoveri ospedalieri sugli equilibri in Vaticano e sulle speculazioni generate dalle sue condizioni di salute. Nonostante non abbia mai pensato alle dimissioni, Francesco ammette che se dovesse farlo non si farebbe chiamare Papa Emerito, ma semplicemente Vescovo Emerito di Roma.